FADA, il congresso di SIGI dentro di due giorni, informazioni valiose di SIGI bintilanti. E' l'ultimo desarrollo di investigazioni che SIGI contribuì nella prevenzione e sua importanza. E' un po' molto importante, attualmente sono il direttore della FMAA, ma la FMAA non è la prevenzione, ma 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 non è la prevenzione. Non abbiamo una prevenzione che inughsilcept preparing per la prevenzione e attività e l'intervenzione feature è reattamente 500 anni. Però oggi abbiamo perspective una prevenzione لل segundo sometime Greta che wenneste alcuni kımano che è reatt湿, che poi tutta la loro prevenzione e cura Quran. Per garantą la brevenzione, località e dispostire hanno la prevenzione alla nuova per gianni e attività. e il prezzo di tutto il bubio, l'evelline della loro domanda. Quindi a tutti i nostri sposti che la gente che stia avuto nel settore, e al che si sta avuto in questo modo, e quando troisième avanti, poi puoi che fare ciò che ci sia avere. Ma quanto riguarda il tempo, perché in un certo punto è un sociao chevalierde raccontamento, che vediamo anche in Nelie. In Nelie sembrava in realtà, in generale, come i anni, che dimenticare bambianti con i nostri amici, e che è arrivato a tutti i nostri amici e che c'è stato molto accettato in le media a la scala di alcool per un bambino che cresce ci sono un gruppo reaccionato che ci sono stati che ci sono stati che ci sono stati che ci sono stati di scuola e di scuola e la doctora Rosane Faris è diretto di FMA Corso Corsau ha un bel beletto molto buono in scuola e per quanto riguarda 5-10 anni, non ha avuto un bel beletto. E in scuola che non ha avuto, se non è stato presente, ha fatto una nota di turcos, ha fatto un contatto con la signora di Corsau e se non ha avuto con il fada, ci aiuta a implementare, non in turcos di maniera Corsau, ma anche se non possiamo, fuori dal sistema con l'Asi. Corsau ha avuto un bel beletto, non solo per la implementazione, non è stato un bel beletto, ma mi faccio vedere anche qui per evaluare i risultati di questa città e mi faccio vedere come adatta, adatta otro programma che è pronta di funzionare il nostro cammino in mondo. Quindi sicuramente, accento di prevenzione che ci sono, e mi chiede di avere il risultato. e mi chiede di avere un'evaluazione profonda di tutto, quanto riguarda l'aspetto di droga e prevenzione di alcol, eccetera, e mi chiede di avere un'evaluazione per usare, e ci sono, in questo caso, e mi chiede di avere un'evaluazione per usare un'evaluazione, ma un'evaluazione per usare un'evaluazione per usare un'evaluazione, e il risultato di risultato. che ci sono state di avere un'evaluazione per usare 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 il risultato. Grazie a tutti.